Cosa è sta bomba di auto? Sbavo? No, benissimo! Con gli inserti azzurri, cioè... Però se tremasse un po' di meno mi farebbe venire meno il vomito. Sì, ma che ansia è il caccio che ti svolazzi in testa, cioè... Non è proprio il massimo della vita, mi dicono. Questa curva come pensano che io la possa fare? Spengo la macchina! No, da piedi, la spingo! Allora, il Donal Kun è riscattato da un dolcetto al mio cucciolo. E anche i Martirei con i due dolcetti al mio cucciolo. Mi sta staccando una mano. Lo visuale è grande. No, non questa. Questa. Perché quell'altra è rivaltata. Allora. Questo è Zen. Salutate tutti i Zen. È bello. È ciotto. Croccantino. Poi croccantino, bravo. Non me lo sbrodolare per la sua tastiera, per favore. Ok. Tenmente era obeso con queste live. No! Vendato! Ok. Va bene. Allora. Arrivo subito. Cerco una benda. Allora. Qua, ci siamo. Non ho una benda ma ho il collare, quello che usavo quando volevo fare lo sbag alle media. Quindi... Non penso di aver girato abbastanza in fretta. Ok, devo tornare, credi. Quello è un albero. Cosa c'era? Che ho sentito vibrare il controller ma non ho visto niente. Ho ucciso qualcuno. Mi sei costato 6.000 palla alla macarena. Va bene. Basta. Ok. Allora, chat. Ma il cane che dorme di fronte? Eh, il cane che dorme di fronte non ce l'avevo, signor Faffo. Mi dispiace. Quel cane è un Bustel. Effettivamente sta lì tipo... Signor Tami sta guardando male. È un problema, eh. Ok. Allora. Potremmo tornare a fare le gare, penso, adesso. Buon. Ok. resultsartenAM diferente. Fun! 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 Grazie a tutti.